Sicuramente il bicchiere non mezzo vuoto, ma vuoto secondo me, perché comunque è un campo difficile, un po' poco praticabile per il gioco che facciamo noi, però nonostante di tutto abbiamo creato diverse palle e gol, alcune delle quali nitide, però nel calcio purtroppo vince chi la butta dentro, oggi non è stata così, quindi portiamo a casa solo un punto. Sappiamo tutti che comunque in questo campionato il girone di ritorno per tutte le squadre i punti valgono doppio, soprattutto per squadre come il Monticelli, che comunque darà secondo me, soprattutto in casa, del filo da torcere a tutte le squadre. Nella fase difensiva siamo esperitissimi molto bene, mentre nella fase difensiva sicuramente dobbiamo essere un po' più cattivi negli ultimi 20 metri, questo non è un riferimento solo agli attaccanti, ma è un riferimento generato dalla squadra, perché chiunque di noi comunque si può trovare in zona gol, quindi sicuramente col nuovo anno dobbiamo migliorare questo aspetto qua. Il messaggio è sempre lo stesso, noi soprattutto col nuovo anno chiediamo solo un po' di normalità, che sicuramente negli ultimi mesi non c'è mai stata, poi se dobbiamo combattere fuori dal campo lo faremo come abbiamo sempre fatto, però poi quando entriamo sul campo daremo tutto per la maglia, come penso che stiamo facendo da tanto tempo.